Musica Omicidio all'asilo presi i killer del clan, sette affiliati del cartello camorristico da Amico Mazzarella catturati questa mattina per l'uccisione di Luigi Mignano, freddato a San Giovanni a Teduccio mentre accompagnava il nipotino a scuola. Il questore avverte, non daremo trego ai clan. Bimba ferita e molto grave, operata nella notte la piccola di quattro anni raggiunta da una pallottola al petto nell'agguato di Piazza Nazionale stava giocando ai giardinetti con la nonna, non è ancora fuori pericolo, il sindaco in ospedale preghiamo per lei. Festa no all'asse Mancino Gargani, ad Avellino primo weekend elettorale tra i vilini il candidato sindaco di Davvero attacca i leader ex DC che sostengono Cipriano. Noi il vero rinnovamento contro la restaurazione la Lega aspetta Salvini, folla alla presentazione delle liste di preziosi. Firme per chiudere i pozzi avvelenati. A Benevento è partita la petizione per chiedere l'immediata chiusura di tre pozzi dai quali si attinge l'acqua potabile per alcuni rioni della città. L'iniziativa è scattata dopo il rilevamento di tetra, cloro e tilene nelle falde. Moretti lascia, arriva a Bellandi. Stamane l'annuncio della Santa Sede per il nuovo arcivescovo di Salerno. Moretti commosso ha comunicato ai sacerdoti della diocesi il nome del suo successore che si insedierà ufficialmente il prossimo 6 luglio. Latina Avellino in diretta tv sul 696. La partita che vale una stagione domani alle 14.30 sul canale 696 di 8 Channel e sfida a distanza con il Lanusei per la promozione in C. In B, otto club chiedono l'esclusione del Palermo. Domani il Benevento all'assalto del Padova per il terzo posto. Buongiorno a questi titoli del nostro Tg. In apertura c'è la cronaca, omicidio davanti all'asilo di San Giovanni a Teduccio. Dopo circa un mese, polizia e carabinieri arrestano sette persone legate al clan d'Amico Mazzarella ritenute responsabili del delitto di Luigi Mignano. Interviene anche il ministro Salvini che si congratula con le forze dell'ordine e dice lo Stato ha vinto. Quello zainetto con la figura di Spider-Man a fianco al cadavere coperto di Luigi Mignano è rimasto impresso nella mente di tutti. Dopo circa un mese lo Stato risponde e questa mattina ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone affiliate al clan d'Amico Mazzarella. L'omicidio avvenne davanti all'asilo del nipote della vittima e si inquadra nella faida tra clan di Napoli Est. Sono sette e cinque killer, killer tutti fuori. Questo significa che abbiamo sicuramente destrutturato la realtà qui a Napoli. C'è solo un obiettivo e l'obiettivo è comune, quello di ridimensionare la pervasività di clan che non rispettano nemmeno i bambini, non si pongono il problema di dove sparano e gli effetti che questo può determinare. Non daremo tregua a questi uomini con un lavoro silenzioso. La fascia di età di questi esponenti, di questi appartenenti clan camorristici è una fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di questi giovani che, come diceva il signor Questore, sono senza scrupoli, sono dei killer ai quali noi quotidianamente, con il lavoro silenzioso dei nostri uomini, carabinieri, poliziotti, tutti i giorni, cercheremo comunque di dare sempre risposte immediate, un'azione di contrasto efficace e concreta. Escono fuori coloro i quali vogliono occupare degli spazi voti. C'è una situazione a Napoli magmatica, ma sono gruppi criminali, non la riducite con baby gang e giovani, no, erano giovani anche i Contini, erano giovani i Mallardi 40 anni fa. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini che dice complimenti a polizie e carabinieri per i velocissimi arresti. È una risposta concreta, lo Stato c'è e si fa sentire non da tregua i boss. Ed è gravissima la bambina di 4 anni ferita ieri in un agguato a Napoli, operata nella notte al Santo Bono, ora è in coma farmacologico. La nostra città è sconvolta, ha detto il sindaco De Magistris, che questa mattina è andata a trovarla. Vediamo il servizio. Sono estremamente gravi le condizioni della bimba di 4 anni raggiunta da un proiettile durante un agguato mentre passeggiava ieri alle 5 del pomeriggio con la nonna tra via Acquaviva e Piazza Nazionale nel centro di Napoli. La piccola si trova ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Bono in coma farmacologico. La situazione della bambina è ancora critica perché forse sapete che appunto il proiettile ha penetrato la scapola destra, ha attraversato entrambi i polmoni però nel retro mediastino ed è stato appunto prelevato dal cavo pleurico del polmone sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito nel senso che il proiettile è stato rimosso e sono in corso ovviamente delle indagini ulteriore per accertarsi che non ci siano stati coinvolgimenti di altri organi apparato. Unanime la condanna del mondo politico istituzionale. La nostra città è sconvolta dal ferimento di una bimba napoletana per mano di un vile criminale. Stanotte mi sono recato al Santo Bono per verificare le sue condizioni. Con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si scaia con sdegno contro un'altra infanzia violata. Inaccettabile che i clan si sparino in centro per il controllo del territorio, accuse il presidente della Camera Fico, che ha continuato, mi aspetto che il ministro dell'Interno attenzioni Napoli ai massimi livelli. Le risorse ci sono, gli uomini arriveranno, la risposta dello Stato cede, forte. Precisa invece il questore di Napoli Antonio De Jesu. Per il governatore De Luca la situazione della sicurezza a Napoli sta diventando insostenibile. Ci auguriamo una svolta radicale, siamo in contatto con i medici del Santo Bono. Aspettiamo con apprezzione e fiducia notizie positive. Continuano le attestazioni di solidarietà nei confronti di Pina Picerno, la candidata del PD all'Europea e vittima di insulti sessisti sul web, per le sue iniziative in campagna elettorale. Chi mi ha offeso, conferma oggi, la Picerno riceverà puntuale querela. Chi sbaglia paga e il ricavato verrà devoluto in beneficenza, annuncia l'esponente Dem. Gli attacchi e le offese, spesso irripetibili, erano riferenti all'idea della Picerno di finanziare la campagna elettorale anche attraverso un'iniziativa crowdfunding. Una pratica piuttosto consueta tra i politici, 100 euro per un caffè e 500 per una cena. Ma il solo fatto che la parlamentare Dem è una donna ha fatto scatenare il peggior sessismo dei leoni da tastiera. È inspiegabile, ha detto la Picerno, che siano state anche donne a rivolgermi gli insulti. Gli operai licenziati FCA tornano a contestare il ministro Luigi Di Maio, che ha fatto tappa allo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Il vicepremier assicura provvedimenti ad hoc per aprire le porte del reddito di cittadinanza anche ai lavoratori disoccupati. Vediamo il servizio. Sono qui per aiutare. Il ministro Luigi Di Maio è tornato nella sua Pomigliano per visitare lo stabilimento Avio Aero dove si realizza la turbina più grande del mondo. Un'occasione per incontrare i vertici e visitare la fabbrica immaginando anche partnership industriali per rafforzare lo storico impianto campano. Sono qui per aiutare, sono qui per sostenere questo progetto industriale che negli ultimi 5 anni ha fatto mille assunzioni in più. aziende importanti, alcune partecipate di Stato come Leonardo. Si discute tanto della opportunità delle turbine Avio sugli elicotteri Leonardo. Questo potrebbe essere auspicabile. Noi guardiamo con molta attenzione a questo progetto anche perché le turbine Avio si fanno in Italia, altre turbine non si fanno in Italia. Quindi diamo lavoro ai cittadini italiani anche con partnership tra aziende come questa e la nostra partecipata a Leonardo. Di Maio è stato però contestato da alcuni operai licenziati da FCA che hanno attaccato il vicepremier sul reddito di cittadinanza. Io ho una casa, mi mangio le pietre, i maccheroni se ne mangia lui, la canna se ne mangia chi lavora e io mi devo mangiare le pietre. Questo Di Maio aveva promesso che risolvere i problemi dei disoccupati, del reddito e di tutto ciò che una classe operaia ha bisogno. Reddito, dignità, lavoro e stipendio. Dove stanno queste cose? Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, ma che farai? Il ministro ha assicurato che nel prossimo decreto ministeriale sarà predisposto il modello per l'ISEE precompilato in modo tale, ha detto, da aprire le porte del reddito di cittadinanza anche ai licenziati. Quattro persone in carcere e un'altra ai domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio di 200 grammi di cocaina e due panetti di hashish. L'operazione è scattata in Valle Caudina ed è stata condotta dai carabinieri di Marcianise che hanno fermato due donne che viaggiavano a bordo di un'auto nella quale è stata rinvenuta la cocaina. Fermati anche tre uomini che si trovavano in un altro veicolo durante le operazioni sono state rinvenute ulteriori dosi di cocaina e 200 grammi di hashish. Si aggrava la posizione di quattro dirigenti tra funzionari delle ferrovie di Stato e due ex dirigenti dell'ex isochimica per cui la procura di Avellino ha chiesto la modifica del capo di imputazione in omicidio colposo. Intanto sequestrata la salma dell'ultima vittima Giovanni Venezia gli inquirenti vogliono vederci chiaro sulla sua morte. Vediamo il servizio. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma di Giovanni Venezia. Il 53enne di Grottole, l'ex operaio isochimica, ha deceduto a causa di una malattia che potrebbe essere direttamente connessa all'esposizione all'amianto. Il sequestro è avvenuto dopo che nel pomeriggio di ieri si erano svolti i funerali dell'uomo. La procura insomma vuol vederci chiaro e il provvedimento è propedeutico all'esame autoptico sul corpo dell'operaio, la ventisettesima vittima della fabbrica dei veleni di Piano Dardine. L'uomo non si era costituito parte civile nel processo in corso di svolgimento a Napoli e a proposito del processo, ieri la procura, in seguito alle relazioni depositate lo scorso 5 aprile, dopo il decesso di altri operai costituitisi parti civili e assistiti dall'avvocato Cesta, ha modificato il capo d'accusa nei confronti di quattro funzionari di ferrovia dello Stato e due ex dirigenti della fabbrica da lesioni personali gravissime a omicidio colposo. Ritenendo meritevoli di accoglimento quelle che erano state le dichiarazioni rese dal consulente di parte civile dottore Giuseppe Gallo, il quale nella deposizione dello scorso 5 aprile ha fatto rilevare come alcuni dei decessi intervenuti nel corso del dibattimento erano riconducibili sicuramente all'esposizione all'amianto. Naturalmente questo determina un aggravamento di quella che è la posizione degli imputati di quel capo A. L'avvocato Cesta nei prossimi giorni depositerà un esposto contro linea il diavellino per il mancato riconoscimento del nesso di causalità tra la morte di suoi assistiti e l'esposizione all'amianto. Proprio per avere un accertamento del nesso di causalità con tutto quello che chiaramente ne deriva anche in termini di riscontro economico per le famiglie che versano in uno stato di evidente indigenza. E a Benevento è partita la raccolta di firme per chiedere l'immediata chiusura di tre pozzi dai quali si attinge l'acqua potabile per alcuni rioni della città. Decisione maturata dopo il rilevamento di tetra, cloro e tilene nelle falde. Il servizio è di Alessandro Fallarino. Due associazioni a Benevento chiedono l'immediata chiusura di tre pozzi del comune ed utilizzati dalla Gesesa per fornire acqua potabile a tre rioni della città. Decisione maturata dopo il riscontro della presenza di tetra, cloro e tilene nelle falde. L'acqua è ancora potabile ma non andrebbe utilizzata spiega l'associazione Altra Benevento. La soglia di contaminazione è stata abbondantemente superata. Non è un inquinamento locale è un inquinamento che riguarda tutta la falda cioè tutta l'acqua diciamo sotto la piana di Benevento. Peraltro non è una novità perché i piani d'ambito nell'ambito calore irpino del 2003-2012 dicevano sempre che bisognava chiudere quei pozzi perché la falda è a forte rischio di contaminazione. Così veniva definita nel 2003 cioè 16 anni fa. Una vicenda spinosa al centro anche di un'inchiesta della magistratura sannita oltre alle sostanze nocive riscontrate grazie all'analisi resta anche in piedi un'altra questione ovvero la mancata autorizzazione da parte della Regione. Quei pozzi secondo legge non potrebbero starci perché tra l'altro siamo in una zona fortemente urbanizzata e peraltro non ci hanno le concessioni. È di ieri la lettera ufficiale della Regione Campania che dice a noi Regione Campania non risultano concessioni per l'emuncimento mai rilasciate. La provincia ci ha detto che gli unici atti che loro hanno sono atti di autorizzazioni provvisorie del 2004. Papa Francesco ha ufficializzato questa mattina la nomina di Monsignor Bellandi al nuovo arcivescovo di Salerno. Prenderà il posto di Luigi Moretti che questa mattina non senza emozione ha salutato la sua comunità. Vediamo. Monsignor Andrea Bellandi finora vicario generale di Firenze è il nuovo arcivescovo della diocesi di Salerno Campania Cerno. Questa mattina la nomina ufficiale da parte di Papa Francesco succede a Luigi Moretti che nel Salone degli Stemmi della Curia ha salutato la sua comunità. Momenti di grande emozione la voce rotta più riprese dalla commozione per la rinuncia dettata da motivi di salute. Moretti però resterà nell'arcidiocesi salernitana con il titolo di vescovo emerito e farà il vice parroco nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Non bisogna mai dimenticare questa dimensione trascendente che ci ricorda come dentro l'umano perché il Signore si è incarnato pienamente si fa presente anche attraverso l'azione dello spirito attraverso la sua condizione di risorto. Veramente per adesso l'ho solo salutato avremo modo di vederci di confrontare condividerò con lui quello che io ho sentito ho vissuto così e sarà lui far tesoro di quello che crede ed evitare quello che ritiene che sia fonte di problemi. Il regalo fa il Signore dandogli questa chiesa tutto qui per il resto cammineremo tranquillamente e serenamente. Siccome non siamo pezzi di legno alido i sentimenti fanno parte della vita. Primo weekend di campagna elettorale ad Avellino tra i veleni Gianluca Gianluca Festa attacca Mancino e Gargani e risponde con i giovani Dino Preziosi lancia la sua terza corsa alla poltrona di primo cittadino mentre Bianca Maria D'Agostino si prepara ad accogliere lunedì Matteo Salvini. primo sabato di campagna elettorale ad Avellino ha aperto la mattinata la lista vera imbottita di giovani che si è presentata alla città per sostenere la corsa al sindaco di Gianluca Festa puntare sui giovani coinvolgendoli nell'amministrazione della città e non più un programma per loro come se fossero un settore a parte ma coinvolgendoli integralmente interamente all'interno delle politiche amministrative di Avellino noi contrapponiamo a Maga Mancino Gargani che sono i padroni del regno della chimica la gioventù vera bagno di folla al carcere borbonico per Dino Preziosi sostenuto dalla civica la svolta e da Forza Italia l'ex manager dell'AIR ci riprova per la terza volta la vera candidatura è stata quella con Foti dove arrivai al ballottaggio da solo avendo tu contro il centrodestra e il centrosinistra non ho corazzate alle spalle non ho interesse alle spalle non devo fare un congresso elettorale cioè un congresso di partito sulla città per cui il mio unico scopo è quello di far ribattere il cuore di questa città di farla rivivere come merita intanto Bianca Maria D'Agostino ha presentato la visita del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini atteso per lunedì ad Avellino l'appuntamento è sul palco di Via Verdi a mezzogiorno nel programma di Salvini c'è sicuramente la sicurezza c'è una città improntata a maggiore efficienza laboriosità ma soprattutto noi dobbiamo eliminare ogni legame con il passato con le logiche clientelari e assistenzialistiche che hanno determinato il male di questa città oggi pomeriggio alle 18 tocca a Luca Cipriano con le sue due civiche mai più e più Avellino i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita nel Sannio hanno arrestato una persona di Gioiano in Campania accusata di essere il terzo componente della banda che a luglio dello scorso anno Armi in Pugno aveva messo a segno una rapina nell'ufficio postale di Amorosi a novembre i militari avevano fermato altre due persone che avevano partecipato al colpo che aveva fruttato 23 mila euro e che erano stati portati via dopo che i tre avevano minacciato con le pistole il direttore e un dipendente dell'ufficio postale della Valle Telesina la loro identificazione è stata possibile dopo il rinvenimento dell'auto utilizzata per la fuga è risultata intestata a una donna moglie di uno dei fermati che aveva poi provato a denunciare il furto del veicolo è fuori pericolo il quindicenne coinvolto del drammatico incidente stradale sul raccordo Salerno Avellino nello schianto perse la vita un diciassettenne di Fisciano nel Salernitano il ragazzo ora cosciente era stato catapultato fuori dalla vettura finendo nella vegetazione vediamo il servizio è uscito dal come il quindicenne che nell'aprile scorso è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale sul raccordo Salerno-Avellino costato la vita ad un diciassettenne di Fisciano sei ragazzi che si trovavano in quell'auto che all'uscita della galleria di Cologna ha sbandato finendo contro il guardrail il quindicenne è stato sbalzato dalla vettura finendo giù dal ponte del viadotto e cadendo tra la vegetazione sottostante in via Stella lo aveva ritrovato una signora che viveva nelle vicinanze della strada a corsa sotto casa non appena aveva udito il forte schianto la donna aveva dato così l'allarme morendo subito dopo colta da un malore improvviso il giovanissimo ricoverato in rianimazione all'ospedale ruggi di Salerno era stato poi trasferito nel reparto di neurochirurgia ha ripreso ora conoscenza non è più tenuto in coma farmacologico e non è più in pericolo di vita le gravi lesioni riportate nell'incidente non avrebbero causato dei danni permanenti stanno meglio anche gli altri giovani coinvolti nel sinistro due sono tornati a casa in convalescenza la 24enne anche lei ricoverata in un primo momento in rianimazione si trova ora in neurochirurgia mentre il fratello dovrà essere operato per le fratture riportate al viso vertenza ex irisbus a giugno partirà il piano di ristrutturazione dello stabilimento di Flumeri vanno avanti i corsi di formazione ma operai e sindacati vogliono nero su bianco sollecitato anche un tavolo urgente al mese vediamo dal prossimo primo giugno dovrebbe partire la ristrutturazione tanto attesa dello stabilimento IA Flumeri intanto vanno avanti i corsi di formazione per i lavoratori in azienda si stanno formando già i lavoratori che sono all'interno quindi è una cosa positiva al di là della formazione fatta in modo teorico e poi ritornare di nuovo in gas integrazione non è una cosa consentita diciamo è più efficace fare formazione nei luoghi di lavoro ma gli operai chiedono un tavolo urgente a Roma al mese per fare il punto della situazione sulla vertenza in maniera chiara e definitiva abbiamo lanciato questo appello al ministero soprattutto le segreterie nazionali hanno fatto la richiesta al ministero dello sviluppo economico per avere un incontro dove ci sia il ministro dove ci sia Invitalia e dove ci sia Leonardo perché è lì che dovranno chiarire come stanno effettivamente le cose se c'è un socio se lo stanno cercando se stanno trattato con qualcuno e soprattutto Invitalia quale sarà il suo ruolo nel momento in cui scadranno i sei mesi e il socio non si sarà trovato perché è ovvio solo lì potremmo capire le cose anche se tra virgolette a volte abbiamo firmato degli accordi abbiamo sottoscritto dei verbali e poi non sono stati mantenuti gli impegni però penso che sia il luogo adatto dove poter discutere di questa situazione dove poter chiarire un po' la situazione punto i vini sanniti in senato per una degustazione letteraria che accenderà i riflettori sul riconoscimento ottenuto dal territorio Sannio Falanghina città europea del vino 2019 la proposta della senatrice Sandra Leonardo che sarà in programma a Roma l'8 maggio vediamo i vini del Sannio in senato per una degustazione letteraria nel segno di Sannio Falanghina città europea del vino 2019 è l'iniziativa della senatrice Sandra Leonardo per promuovere il riconoscimento e al tempo stesso il territorio l'appuntamento è in programma a Palazzo Madama l'8 maggio con i saluti affidati alla presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parteciperà il territorio con la musica del conservatorio con il professore Cassucci con l'università del Sannio ci sarà il presidente Floriano Pranz il sindaco che porterà i suoi saluti spiegherà il progetto che ha portato questo meraviglioso riconoscimento e ci sarà poi il presidente degli enologi mondiali che è il dottore Riccardo Cotarella vino, letteratura, arte e musica insieme per accendere i riflettori sul Sannio e le sue eccellenze ci sarà per quell'occasione la Deborah Caprioglio che declamerà alcune poesie quindi come dire una miscellanea tutta per portare l'attenzione dell'Italia e non solo di questo nostro vino meraviglioso un'occasione unica per portare il Sannio in Senato ovviamente questo significa che con un evento organizzato con la buona volontà e la passione e con pochissime risorse avere un ritorno di immagine sulla provincia di Benevento di spessore notevole il mondo della disabilità tra proposte e iniziative da mettere in campo oggi il congresso provinciale all'abbazia del Loreto a Mercogliano vediamo una giornata dedicata alla disabilità questa mattina nel salone degli arazzi del palazzo abbaziale del Loreto di Mercogliano l'associazione nazionale mutilati e invali di civili ha organizzato un congresso provinciale dal titolo viaggio nella disabilità dal riconoscimento sanitario all'integrazione scolastica dall'inclusione lavorativa all'appello al governo per fare di più affrontiamo il tema del lavoro il tema dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e un altro tema molto importante che a noi sta molto a cuore su cui stiamo svolgendo un grandissimo lavoro è la legge 112 2016 la cosiddetta legge sul dopo di noi una legge importante una pietra miliare nell'ordinamento giuridico e naturalmente legislativo nazionale una pietra una legge che ci porterà chiaramente ad avere esaurito tante speranze ma naturalmente in questo momento la nostra preoccupazione è renderla ricca di contenuti altra cosa che chiediamo e che naturalmente abbiamo diciamo si poniamo sempre grande attenzione è sempre stato un nostro cavallo di battaglia sono l'abbattimento delle barriere architettoniche non soltanto barriere architettoniche di natura fisica o strutturale ma soprattutto anche le barriere architettoniche di natura culturale la filiera agroalimentare in particolare l'industria del pomodoro al centro del viaggio di Conad il colosso della grande distribuzione ha fatto tappa a Salerno il grande viaggio insieme è il tema del tour itinerante che Conad ha avviato in tutta Italia e quando si parla di filiera agroalimentare non si può non pensare alla Campania e al territorio salernitano in particolare settore strategico per l'economia è punto di riferimento per un colosso del settore che ha deciso di affidare all'istituto di ricerca Aster uno studio socio-economico sul comparto i risultati sono stati discussi al teatro augusteo di Salerno per fare il punto con istituzioni ed esperti sulle criticità e le potenzialità ma anche le buone pratiche da imitare e diffondere dibattito che ha preceduto il concerto del maestro Peppe Vessicchio e dei solisti del Sesto Armonico Per noi essere dentro a una filiera significa essere parte di una comunità sostenere grazie ai prodotti che la filiera produce anche tutto quello che è la ricaduta a livello sociale ovviamente economico e di valorizzazione del territorio e il motivo centrale è essere proprio dimostrare come noi all'interno della filiera riusciamo ad avere un ruolo di generazione del valore assieme ai produttori e di generare anche ai consumatori la giusta convenienza al rapporto qualità-prezzo che è più conveniente per i consumatori di oggi che sono sempre più attenti sono sempre più informati e sono sempre più consapevoli di quello che acquistano Salerno è la patria del pomodoro e noi vogliamo dare un valore a questo a questo localismo noi in Campania siamo molto sviluppati abbiamo tanti supermercati tanti ricorsi tanti associati e cerchiamo di portare avanti un qualcosa che sia omogeneo con tutta la popolazione si parla di agroalimentare quanto è importante il comparto di una provincia come quella di Salerno e più in generale di una regione come la Campania nella Campania noi abbiamo un'eccellenza e in Salerno abbiamo una provincia che ha fatto dell'agroalimentare il suo biglietto da visita non avere la giusta attenzione su quello che può essere la conoscenza e la consapevolezza delle qualità dei prodotti rischia di portarci su meccanismi che gradualmente rischieranno di favorire appunto importazione ma soprattutto la generalizzazione e l'omologazione del prodotto era l'ultima notizia il Tg termina qui grazie di averci seguito la linea Valtigi Sport e l'ultima notizia e l'ultima notizia la linea Valtigi Sport e l'ultima notizia